mamma ucraina diretta a pesaro perde la vita in un incidente ultimo saluto a marco morto in scooter mentre andava a scuola il nuovo arcivescovo e don sandro salvucci saluta piero coccia a settembre riapre il reparto maternità di pesaro sport weekend perfetto per buone bis e tal service buona serata amici amici di rossini tv ben ritrovati di una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news notiziario di lunedì 14 marzo il primo di una settimana davvero importante e significativa perché rossini tv da domani martedì 15 marzo comincerà a passare sul canale 80 una transizione legata al passaggio al digitale terrestre che vedrà nei prossimi giorni dunque gradatamente sparire la nostra emittente dal canale 633 per poi trovarla sul canale 80 i voi telespettatori che nel caso doveste non trovarci più sul canale 633 dovrete soltanto risintonizzare la tv e vedrete rossini tv in questo grosso passo avanti verso il canale 80 ma andiamo alle notizie e apriamo questo nostro telegiornale con un episodio che in questo fine settimana ha fatto il giro dei notiziari nazionali ma che anche dei risvolti nel nostro territorio era infatti diretta a pesaro la mamma ucraina di 32 anni che ha perso la vita sabato mattina nel pullman che si è rovesciato in autostrada nel tratto compreso tra cesena e valle del rubicone un incidente per cause ancora da chiarire un dramma nel dramma per una mamma con i suoi figli in fuga dalla guerra che assieme a decine di connazionali ucraine era su quel pullman la donna era insieme ai suoi due figli ed era quasi arrivata alla sua fermata quella di rimini da lì avrebbero aggiunto alcuni parenti a pesaro parenti ai quali probabilmente saranno affidati i figli di 5 10 anni figli che hanno perso la mamma che attualmente sono ricoverati all'ospedale buffalini di cesena in condizioni non gravi e proprio contro la guerra in ucraina continuano susseguirsi mobilitazioni di solidarietà l'ultima venerdì sera in piazza del popolo a pesaro con una fiaccolata per la pace preceduta da una pedalata nella giornata di millumino di meno ricorrenza nazionale dedicata alla sensibilizzazione al risparmio energetico un venerdì che era iniziato con la piantumazione di alberi all'ex amga per operazioni di bonifica nella contaminata area di via morosini un'occasione in cui abbiamo intervistato il sindaco di pesaro matteo ricci per spiegare questa importante giornata oggi è la giornata di millumino di meno ogni anno il comune aderisce quest'anno il tema non è soltanto l'efficientamento energetico ma ovviamente anche la pace ed è anche il tema della bicicletta e delle piante per cui abbiamo voluto inventare questa iniziativa che parte da qui questo è un luogo simbolico di pesaro perché uno dei luoghi che ha sofferto di più dal punto di vista ambientale negli ultimi 15 anni che finalmente stiamo siamo riusciti siamo riuscendo a bonificare e il gran parte del lavoro di bonifica lo faranno le piante l'azienda che ha vinto l'appalto ha preparato nei mesi scorsi diciamo il terreno ora si inizierà con l'arrivo della primavera a piantare le piante saranno loro che bonificheranno il terreno togliendo gli idrocarburi che ancora sono presenti nel terreno stesso una bella innovazione ed è un modo per restituire un luogo verde un parco urbano al quartiere porto che ha sofferto molto questa vicenda ovviamente è una giornata particolare perché poi con bicicletta arriveremo in piazza quindi dedicheremo questa fiaccolata alla pace per l'ucraina è un momento di guerra che sta sconvolgendo l'europa e a fianco del popolo ucraino e con un appello forte per la pace affinché si fermi il conflitto e si interrompono i bombardamenti le tante atrocità che stiamo vedendo purtroppo giorno giorno dopo giorno siamo partiti da qui e piantiamo questa prima pianta una mimosa dedicandola anche a daniele tagliolini perché sono ore per noi molto dolorose abbiamo perso ieri un grande amministratore appassionato chiamava davvero la sua terra in particolar modo le aree interne della nostra provincia presidente di marche multiservizi oggi sarebbe stato qua con noi quindi vogliamo dedicare questa piantumazione a lui perché credo che non ci sia modo migliore per provare a ricordarlo perché per noi è difficile parlarne al passato se non piantando una pianta esattamente come ha fatto lui per tutta la vita costruendo tante relazioni e cercando di mettere in campo tanti progetti tante innovazioni per il miglioramento della della sua terra quindi una giornata triste però noi vogliamo pensarlo insieme a noi e abbiamo cercato di come dire trovare la forza anche per fare una manifestazione che lui avrebbe voluto alla quale avrebbe partecipato in prima fila questo pomeriggio a borgo santa maria si è tenuto lo straziante ultimo saluto a marco ragnetti sedicenne pesarese morto lo scorso martedì in sella al suo scooter mentre si stava recando a scuola in servizio palloncini bianchi e blu che volano in cielo sulle note di una canzone di rama la sua bici da corsa e il suo caschetto adagiati a fianco al feretro e poi uno striscione spinto dagli angeli verso il traguardo a sottolineare quella sua animata passione per il ciclismo marco ragnetti è stato salutato così dalle centinaia di ragazzi amici e compagni di squadra che questo pomeriggio al parco dei tigli di borgo santa maria si sono radunate per l'ultimo straziante saluto ad un ragazzo strappato alla vita ad appena 16 anni da un fatale incidente stradale in scooter mentre si stava recando a scuola piccoli gesti per un enorme affetto rivolto al dolore inconsolabile dei genitori della sorella e dei parenti di marco un figlio un fratello un amico perso in un maledetto incidente è accaduto martedì poco prima delle 8 di mattina quando marco dalla sua casa di borgo santa maria stava cercando di raggiungere la scuola l'istituto agrario cecchi dove frequentava il secondo anno sulla statale urbinate per cause ancora non chiarite il suo ciclomotore ha finito per invadere la corsia opposta scontrandosi fatalmente con un camion che stava sopraggiungendo la corsa in ospedale i tentativi di reanimazione ma non c'è stato nulla da fare marco non ce l'ha fatta e alla fine erano un migliaio le persone che oggi si sono unite e raccolti in un dolore lancinante durante la funzione ufficiata da don giorgio parroco di borgo santa maria c'erano i tanti compagni della società ciclistica calma juventus fano con cui marco correva e che 24 ore prima avevano voluto onorare il compagno con una pedalata confluita in un momento di raccoglimento sul luogo dell'incidente c'erano i compagni con cui aveva condiviso la passione per il rugby c'erano i migliori amici che al microfono del parco hanno letto parole di smisurato dolore e fratellanza perché a te bastava che le persone al tuo fianco fossero felici con la tua leggerezza e la tua capacità di trasportarci in un mondo tutto tuo dove ci regalavi i sorrisi più sinceri raccolte anche tante offerte durante il funerale saranno devolute a caritas e unicef per aiutare i giovani profughi dell'ucraina svolta storica per la chiesa pesarese questo weekend è stato infatti ufficializzato il congedo di monsignor piero coccia dopo 18 anni da arcivescovo metropolita di pesaro il suo successore sarà don sandro salvucci dopo 18 anni monsignor piero coccia si congeda dal suo incarico da arcivescovo metropolita di pesaro un commiato che è arrivato dopo diverse proroghe alla scadenza del suo mandato per sopraggiunti limiti di età l'annuncio è arrivato sabato dall'episcopio del duomo di pesaro in contemporanea ad un altro annuncio quello dell'arcidiocesi di fermo che ha indicato la nomina di papa francesco al successore pesarese di coccia vale a dire don sandro salvucci 57 anni da compiere ad aprile nato a macerata ma cresciuta a corridonia nonché parroco dell'unità pastorale di montegranaro si insedierà a pesaro entro tre mesi un lasso di tempo in cui coccia amministrerà ancora la diocesi prima di dare il benvenuto al suo successore siamo come chiesa locale molto contenti di questa scelta è una persona che tra l'altro conosciamo e lui conosce anche un po pesaro e anche una persona che qui da noi ha fatto esperienze con i suoi ragazzi nei campi scuola presso villa borromeo ma anche conosciuto per altre ragioni quindi siamo in un sentimento di grande gioia e frattempo anche di grande corresponsabilità fare il vesco non è cosa semplice specialmente per i tempi in cui viviamo e allora a lui facciamo gli auguri di continuare tanti cammini che la chiesa di pesaro intrapreso e che vanno continuati e che vanno progressivamente orientati quindi questo è un augurio molto sentito e per quanto riguarda me devo dire che in 18 anni ho assistito a un trapasso culturale sociale politico anche economico e anche ecclesiale di grossissimo rilievo io quando mi hanno fatto vesco non pensavo che mi avrebbe atteso un periodo così intenso e di grandi modificazioni i cambiamenti così però è stato e ho cercato di viverli certamente con grande fede e anche con grande attenzione a tutte quelle sfide che i tempi mi hanno riservato debbo dire che mi sono stato accompagnato dalla nostra arcidiocesi dai sacerdoti religiosi e consacrate molti operatori pastorali e poi dai collaboratori più diretti sia nella sfera pastorale come anche nella sfera economico amministrativa quindi non sono stato solo anche se queste sfide sono state di grande entità e credo che altre sfide ancora ci saranno è arrivato l'annuncio a settembre riaprirà il dipartimento materno infantile dell'ospedale san salvatore di pesaro da settembre in pratica si tornerà a nascere anche a pesaro da settembre si tornerà a nascere pesaresi a due anni esatti dalla chiusura del dipartimento materno infantile di un ospedale san salvatore per due anni riconvertito in presidio covid l'allentamento di contagi e ricoveri crea le condizioni per rispettare quell'impegno preso un anno fa attraverso una mozione approvata all'unanimità dall'intero consiglio regionale ovvero riaprire il dipartimento non appena le condizioni di emergenza sanitaria lo avessero consentito dunque l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini approfittato sabato dell'inaugurazione del rinnovato reparto di chirurgia di pesaro per dare l'annuncio della riapertura tanto attesa ora partono sei mesi di riorganizzazione e interventi strutturali per riportare le nascite di marche nord anche a pesaro dopo il dirottamento dell'intero processo neonatale al santa croce di fano e a un conseguente innalzamento della mobilità passiva verso altri ospedali soprattutto quello di rimini basti ricordare che nel 2021 solo 60 mamme con patologie covid hanno potuto completare la gravidanza a pesaro un provvedimento applaudito dal consigliere regionale nicola baiocchi che aveva seguito passo passo le procedure per la riapertura idem per l'opposizione di andrea biancani che aveva previsto nel prossimo consiglio regionale un'interrogazione per sollecitare il ripristino del dipartimento e l'annuncio della riapertura del dipartimento di maternità è arrivato a margine del taglio del nastro al rinnovato reparto di chirurgia generale dell'ospedale san salvatore una novità in termini sanitari che potrete approfondire con uno speciale realizzato dal nostro antonio astuti che rossini tv trasmetterà venerdì 18 marzo alle 21 e 20 intanto vi mostriamo qualche anticipazione in questo servizio da oggi il reparto di chirurgia dell'ospedale san salvatore di pesero torna al massimo dell'operatività lo fa dopo il completamento di lavori strutturali che hanno visto mezzo milione di euro di investimenti fra impiantistica e arredi per 33 posti letto collocati nella palazzina a dell'ospedale un rinnovamento accompagnato sabato dal taglio del nastro alla presenza della direttrice di marche nord maria capalbo del prefetto tommaso ricciardi di monsignor piero coccia che ha presenziato all'inaugurazione nel giorno del suo congedo d'arcivescovo e dai vertici della giunta regionale che hanno applaudito il rinnovato reparto diretto dal primario alberto patriti volevamo testimoniare l'impegno con cui la giunta regionale segue l'evoluzione del servizio sanità nella provincia di pesero urbino questa è una tappa significativa intermedia tra quello che avverrà nei prossimi anni cioè la realizzazione un ospedale di pesero e intanto l'adeguamento di questa struttura perché nel tempo necessario per la realizzazione della nuova struttura dobbiamo adeguare i servizi e anche i plessi ospedalieri alle norme vigenti riapriamo un reparto fondamentale importante i posti di chirurgia e quindi pesero è un'eccellenza vanta una mobilità attiva quindi sono numerose le persone che vengono a curarsi a pesero e queste sono le cose positive che vanno sottolineate un reparto un ospedale un personale qualificato che dà sicuramente lustro alla nostra regione al nostro sistema sanitario lo ha fatto nei periodi di crisi quelli più brutti quelli dell'inizio covid e speriamo siamo sicuri che in una fase migliore che auguriamo tutti possa essere il prima possibile potremo tornare a programmare a contraddistinguerci per la capacità di dare servizi di dare risposte e fornire assistenza ai malati alle persone più deboli alle categorie più a rischio il video che vi mostriamo ora è stato postato oggi dal ducato e documenta alcuni momenti concitati nella serata di ieri sulla linea verde dell'autobus fra pesaro e urbino un quarantenne in evidente stato di ebbrezza infatti salito sul bus a morciola di valle foglia senza mascherina e all'invito dell'autista mettersela ha dato in escandescenze per una situazione poi degenerata a pugni e spintoni che hanno coinvolto l'uomo in questione un suo amico e altre due persone minacciata la chiamata a polizia e carabinieri il quarantenne è stato fatto scendere dal bus all'altezza di gallo di petriano incendio questa mattina attorno alle 11 in un appartamento di osteria nuova di monte labate il cortocircuito di una presa frigorifera ha infatti pesantemente danneggiato una abitazione in via arena a dare l'allarme una mamma con due figli che ha allertato i vigili del fuoco intervenuti per sedare il ruogo non sono state coinvolte persone ma l'appartamento è stato dichiarato inagibile in seguito ai danneggiamenti riportati la caritas di pesaro rende noto che è stato inviato oggi il primo bonifico per la comunità ucraina dopo la raccolta fondi coordinata in queste settimane una raccolta fondi che ha permesso di inviare in soccorso alla popolazione in guerra più di 48 mila euro denaro donato ma anche accoglienza la carita si ha registrato finora 135 famiglie pesaresi che hanno dato disponibilità ad accogliere profughi poco fa ci siamo occupati del nuovo arcivescovo di pesaro le foto che vi mostriamo ora si riferiscono invece al vescovo di fano armando trasarti che ieri ha incontrato a villa san biagio anziani donne e bambini ucraini che scappati dalla guerra sono stati accolti dalla struttura gestita dall'opera don orione il vescovo ha condiviso il pranzo con i cittadini ucraini esprimendo loro la vicinanza della diocesi ed ora parliamo di teatro domani martedì 15 marzo nancy brilli e chiara noschese saranno le protagoniste di manola di margaret mazzantini per la regia di leo muscato uno spettacolo che in scena al teatro sanzio nella stagione promossa da comune di urbino e amat appuntamento dunque alle 21 con questa appassionante storia di due sorelle gemelle in perenne contrasto ed è stato tadei pogazzar a vincere ieri l'edizione 2022 della corsa ciclistica tirreno adriatico conclusa proprio in questa domenica proprio lui il talento 23enne sloveno che sabato è arrivato per primo al traguardo di carpegna al termine della penultima tappa della corsa dei due mari una tappa che era partita da pecchio rivelandosi uno sta uno straordinario successo di partecipazione e uno split spot per un territorio attraversato per oltre 200 chilometri spalmati su 21 comuni ringraziamo a tal proposito i tanti telespettatori che ci hanno inviato molte delle immagini che state vedendo al numero whatsapp dedicato di rossini tv 370 366 7210 e completiamo la panoramica sulle notizie sportive con un weekend assolutamente gratificante per quel che riguarda i risultati di vl vispesero e tal service le novità si rivelano terapeutiche per la carpegna prosciutto pesaro che alla meglio sulle picasa brindisi 86 a 84 la combinazione della prima volta alla vitri frigo arena di lorenzo pizza come nuovo detentore della maggioranza di quote societarie la novità di franco arceci presidente del consorzio e la new entry di sostanza equilibrio portata sul parquet da marex meieris generano una vittoria al cardiopalma con la squadra di banchi che si prende anche vantaggi di 9 punti ma con i pugliesi che restano incollati ad una partita che alla sirena pesaro vince di misura ma con merito trascinata da un ottimo sanford supportata da john sedelfino e sostenuta da un esordio di meieris che fa ben sperare una vl che vince e va a più 4 sulla zona calda ci prendiamo questa bella vittoria importante costruita con un prepotente rientro nel secondo periodo e poi da lì abbiamo dato dei segnali confortanti per la capacità che abbiamo dimostrato di limitare il potenziale offensivo di una squadra a brindisi che complice anche le ultime aggiunte si candiderà ad essere una delle squadre più importanti in questo finale di stagione quindi voglio che sia dato il giusto risalto a vittoria contro come detto un'avversaria che vedremo anche quest'anno tra le assolute protagoniste di questo campionato abbiamo sofferto la loro fisicità abbiamo dato tante seconde opportunità sapevamo di soffrire dal punto di vista fisico atletico abbiamo cercato di compensare con il lavoro di squadra con lo sforzo di tutti e poi in attacco purtroppo non sempre abbiamo avuto quella lucidità che ci aveva permesso di arrivare a costruire un promettente vantaggio vittoria robusta anche per l'ital service che a eboli ritrova la fel di rivale di supercoppa e la batte di nuovo con un 5 a 2 firmato dalla doppietta di fortini e dalle reti di salas taborda e tony dandel che regalano la vittoria a dispetto delle pesanti assenze contemporanee di borruto canal ed olivera l'ital service resta in testa con due punti di vantaggio su petrarca padova che però ha una gara da recuperare di punti ne raggiunti invece 41 la vispesero che ora può dirsi salva e può pensare solo ai playoff dall'alto del suo ottavo posto a sette gare dal termine nell'anticipo del sabato i pesaresi battono il grosseto in rimonta botta risposta nel primo tempo con capanni che fa gioire i toscani e tonso che li riacciuffa subito aiutato dalla deviazione di un difensore nel secondo tempo decidono i rigori il grosseto ne ottiene uno ma cretella lo stampa sulla traversa non sbaglia invece la vischia quattro minuti dal termine riceve un penalty per atterramento di marcandella rigore con cui cannavò segna il 2 a 1 definitivo che consente alla vis di concedersi nelle migliori condizioni all'impegno ravvicinato con l'elite del torneo domani martedì 15 marzo c'è infatti la trasferta in casa della reggiana seconda in classifica sabato invece arriva al benelli il modena prima della classe e al benelli sarà giornata biancorossa i ragazzi sono stati fantastici e come dico sempre i complimenti vanno a loro perché oggi hanno dominato come piace a me il gioco con il non possesso con la pressione la chiave della partita è stata che la vispesero pressava in avanti la costruzione del grosseto e loro mettevano la palla lunga dentro il campo il primo tempo le seconde palle non le abbiamo gestite benissimo nel senso che le conquistavamo ma poi non davamo qualità a quel a quel tipo di soluzione nel secondo tempo è cambiato qualcosa paradossalmente per essere un pochettino più propositivo con la palla sono tornato al centrocampo a 3 invece che a 2 e quando tu giochi con due mezzali come tonso e marcandella dopo ti passa la palla che uno dei due attaccanti scarica e ti ritrovi con un giocatore offensivo vicino all'area i ragazzi sono stati ripeto attentissimi e soprattutto anche e questo è un grande merito sono stati coraggiosi il coraggio oggi di questa squadra ha fatto la differenza sconfitta pesanti in serie di per il fano che cade 1 a 0 a notaresco colpita dal gol dell'ex vittorio esposito che inchioda l'alma al terzultimo posto in classifica dal calcio al volley a urbino la megabox vallefoglia gioca una gran partita ma rimedia solo applausi la squadra di bonafede sfiora il tie break ma la igor gorgonzola a spuntarla in 4 set e si conclude qui questa nostra edizione di rossini tv prima di salutarci vi ricordiamo ancora il passaggio da domani martedì 15 marzo verso il canale 80 rossini tv cambia dal canale 633 al canale 80 per chi non dovesse più trovarci sul canale 633 nei prossimi giorni dovrà semplicemente risintonizzare la tv e ci troverà nuovamente sul canale 80 ed ora vi diamo conto della nostra prima serata che alle 21 e 20 vedrà una nuova puntata come ogni lunedì del nostro format check up obiettivo salute realizzato in collaborazione con fisiorati medical center ospite di questa sera sarà la dottoressa maria eugenia minardi specialista in gastroenterologia che ci parlerà del reflusso come prevenirlo e combatterlo appuntamento alle 21 e 20 prima replica alle 23 e 15 e poi l'informazione su rossini tv lo ricordiamo tornerà domani puntuale alle 7 20 in diretta come tutti i giorni dal lunedì al sabato con la nostra assegna stampa dei quotidiani locali buongiorno rossini ed è davvero tutto per questa sera ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi tutti 3 a presto